Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica fantasy, fantasy e fumetti. Continuiamo a parlare di Calia, oggi con il numero 19 dal titolo Fuga Disperata, dopo la sigla. Calia all'era dei fondamenti numero 19, Fuga Disperata, di Lamberti Cantone con i disegni di Odore. Ci tengo a parlare dei disegni perché come avete potuto intuire dalla miniatura di YouTube quello che ha colpito maggiormente, che resta un pochino più impresso negli ultimi numeri di Calia è il fatto che ci sia questa stupida sexy Gialdest che sta un po' conquistando i nostri cuori o quantomeno le nostre mutande. Ma bando alle ciance parliamo un attimino di quello che è successo in questo numero ovvero del fatto che sta continuando la fuga, appunto, disperata nel tentativo di portare quello che rimane di un antico tiranno, di questo Amon Darn che doveva essere morto da 500 anni dopo aver regnato per 100 anni ma è ancora vivo grazie alla magia o all'alchimia, che dir si voglia. E per qualche ragione, appunto, non si riesce ad ammazzare questo stronzo è tenuto prigioniero, peggio, di Hannibal Lecter ma comunque con la sua favella, con le sue parole riesce a insinuare il dubbio nei cuori dei nostri protagonisti. Devo dire che è un cattivo anche molto affascinante un cattivo sicuramente interessante non quello che mi aspettavo dai racconti su quello che è stato per 100 anni di dittatura fondamentalmente è un cattivo che può conquistarci e farci vacillare pure a noi lettori questa cosa è stata molto interessante finalmente rivediamo Aridan che riabbraccia i suoi amici in particolar modo Lena ma in particolar modo anche Kali che finalmente con il suo nuovo potere prima o poi gli potrà ricostruire il naso e su questo immagino che siamo tutti d'accordo ritrova anche il suo fantastico amico il suo buddy Tag con cui c'è questo questa bromance che hanno insieme Aridan e Tag quindi sono molto felice di vederli tutti riuniti non manca più nessuno a parte i due leocorni e a parte i due leocorni sarebbero appunto purtroppo l'elfo Kalon che ci ha abbandonato perché appunto si è sacrificato nel dodicesimo numero e poi anche il nano di cui tra l'altro scusate non mi ricordo il nome il nano che invece sta regnando perché è anche un re questo nano non è l'ultimo arrivato e quindi giustamente si sta facendo i fatti suoi ma il nano era un pochino un po' un'aggiunta così che è stata per pochi numeri io avrei preferito vederlo di più insieme ai nostri amici ma chiaramente essendo un regnante è impossibile perché ho parlato appunto dell'assenza di Kalon? perché in questo numero oltre a vedere questa fantastica sexy Gialdest che esce dalle acque tutte nude si crea un perizoma alla Rogue nelle terre selvagge sì sto guardando gli X-Men 97 alla Rogue nelle terre selvagge per poter essere pubblicata in edicola e alla creazione di fantastici golem che combattono con lei e anche alla creazione di fantastiche armature golem se così si possono chiamare che servono a difendersi dagli attacchi Gialdest vediamo una cosa particolare una side story una trama che era lasciata un attimino da parte sul fatto che nonostante il morbo grigio sia stato debellato pare che qualcuno lo stia ancora portando in giro una sorta di non lo so ultimo rimasto ultimo appestato rimasto e pare che sia una creatura selvaggia un coniglietto un coniglietto morbotico che cammina per le lande questi tre poveri squinzi questi tre poveri disgraziati stanno cercando la fonte di questo morbo pallido e pare che l'abbiano trovata in una creatura molto strana che non sembra avere totalmente senno e che non è assolutamente un coniglietto non è assolutamente un animale ma pare essere un vero e proprio essere antropomorfo senziente anzi sembrano essere due esseri antropomorfi senzienti a parer mio quello che stiamo vedendo è un residuo stranissimo di quelli che potrebbero essere Calon e Varnon ovvero i due elfi corrotti dal morbo ma su cui sono stati fatti anche degli esperimenti proprio ad opera di Varnon stesso e che quindi magari hanno raggiunto un nuovo stadio del morbo che va oltre essere degli spettri questo morbo questo essere che appunto uccide senza troppi problemi per potersi cibare i due colleghi del nostro protagonista che dovrebbe essere Vell tra l'altro non lo so vabbè appunto possiede due anime che sicuramente sarà una quella del nostro amato Calon che non è quella che vuole uccidere le persone a caso e una sarà quella di Varnon ipoteticamente appunto che sarà colui che ci farà odiare questo essere appunto che ci farà anche giustificare il fatto che Calon in qualche modo è sopravvissuto ovvero grazie alla crudeltà di Varnon molto molto interessante anche perché il personaggio dell'elfo è qualcosa che avrei voluto rivedere e io spero che in qualche modo ritorni se non in forma elfica comunque in forma di spettro con una runa magari riescono a separarlo da Varnon e a risolidificarlo in un corpo con una runa che periodicamente va rinnovata però perché no sarebbe carino il contributo di Calon alla squadra sarebbe secondo me potrebbe essere indispensabile chissà nella seconda run questa cosa la vedremo insieme tra qualche mese allora questo numero di Kaya appunto sarà che il titolo è fuga disperata sarà che rispetto a quello scorso l'ho letto tutto d'un fiato mi è sembrato velocissimo da leggere non mi sono nemmeno accorto di essere arrivato all'ultima pagina e sono molto soddisfatto diciamo di quello che ho letto volevo approfittare di questo terzultimo video del mese il prossimo sarà su ultimates sul nuovo ultimate spider-man il prossimo ancora sarà su tartaruga ninja 65 per annunciare quello che si poteva percepire no in realtà no ho semplicemente detto già nella scheda community che faccio un po' fatica a tenere il canale in costante aggiornamento appunto perché sto facendo altro sempre che ha a che fare con questo mondo di fumetti e cultura pop però dietro le quinte e di conseguenza i video potrebbero non arrivare puntuali questo mese mi sono impegnato arriveranno comunque puntuali se notate questo è arrivato con un giorno di ritardo e di conseguenza anche gli altri però quello che voglio dire io è che questo è l'ultimo mese dove c'è questa programmazione classica da no ma ma ammazzo di due tre video settimana un video settimana perché da giugno ci sarà una pausa da giugno ci sarà una pausa ci sarà una pausa estiva una sorta di chiuso per ferie o forse chiuso per lavori in corso o forse chiuso per restauro chi lo sa manco io lo so onestamente sta di fatto che sono stanco come diceva Bilbo Baggins come del burro spalmato su troppo pane e quindi credo che sia corretto fare una pausa per poter far uscire dei video avendo di nuovo la passione nel doverlo fare e non semplicemente dovendo timbrare il cartellino dal momento che non è il mio lavoro ma è un hobby e quindi godetevi il prossimo video su Ultimate Spider-Man godetevi il video sulle tartarughe ninja numero 65 cercherò ma non ve lo assicuro di far uscire durante l'estate comunque il video in cui restauro il furgoncino delle tartarughe ninja il furgoncino delle tartarughe ninja che a gennaio è stato autografato da Kevin Eastman quindi cercherò comunque di fare uscire quel video durante l'estate oppure sarà il primo video di settembre chi lo sa vedremo un po' come andrà la situazione verrà sicuramente annunciato sulla scheda community per quanto riguarda invece il mio canale Instagram cercherò di essere comunque ancora attivo semplicemente con delle recensioni Instagram con delle opinioni cercherò comunque di farmi di farmi vivo ma appunto non prometto nulla sulla costanza perché ci tengo a essere un pochino più shallow un pochino più rilassato perché mi sto spremendo tanto le mie forze verso altri progetti che dire io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video fino alla fine di questa avventura non che sia la fine però appunto ci stiamo avvicinando a un cambiamento sicuramente e quindi vi ringrazio per avermi seguito fino a qui o come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci ai prossimi due video e poi ci vediamo su Instagram e forse a settembre arrivederci a presto